Ciao a tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Blockhunt della domenica sera dalle otto Oggi siamo in compagnia di TheMarkTierRestRaptor e Metano00T Ciao! Ciao! Metano ha detto ciao Metano? No, non lo voglio di viverlo ha detto Metano, è il tuo turno Bimbi, Blockhunt è una serie Lezza e per questo... No, no, un momento, aspetta! Cosa? Aspetta, cosa è successo qua? Marci, che cazzo che... Non so raga, è successo qualcosa di stranissimo, è caduto qualcosa di fianco a mamma, non doveva accadere questa cosa Marci, che cosa sono due? Era tipo la metà scrivania, regà Alien doveva accadere, non doveva accadere No, no, come faceva a cadere? Era la metà scrivania, regà, ma di cosa stiamo parlando? Ti è caduta la scrivania, non capisco Sovrumano No, no, avevo tipo un pezzo di carta che era la metà scrivania, di fianco alla tastiera, è caduto di fianco E io mi scopo Marci Mistico Vabbè, continua pure, buon, bontano Non me la sento C'è mio padre qui che mi sente, vedi? Sono tuo padre Sono tuo padre Onesto come cosa Non so che Sei vero ma giusto Ragazzi, racconta se tu mi piaci, superiamo i 4367 per un nuovo video su Vlocante C'è una partita bella Yeah Una voglia di vivere tremenda No raga, aspetta, devo dire una cosa importantissima Settimana, domenica di settimana prossima, molto probabilmente non uscirà lo camp Per il semplice fatto è che ho perso la sfida delle Bedwars E per caricare 3 Bedwars ce le devo trovare un giorno Quindi il giorno prestabilito sarà domenica prossima Ragazzi siamo in partita Ragazzi mi raccomando il pot È la balena Raga, questa è la mappa della balena No raga Ma raga, ma senza Iacco la mappa della balena non è la mappa della balena No, non è questa la mappa della balena Sì, sì, è questa qua È questa, è questa Andiamo dentro la balena ragazzi, sono un po' Torniamo nella balena Ma come? Cosa come? Ma in che senso è la mappa della balena raga? Io non capisco Non sai cos'è la balena? Raga, la balena No Ma come non si può dire cos'è la balena? Eh no Marci Attento, ti dico solo attento Ah ma Tano sei una merda Cosa? Tano fai schifo Mi ha switchato, non è colpa mia Ma vai a cagare, te lo switchare Guarda che se hai punti diretto la balena ti ammazzo di boccia Che schifoso Tano No, non sto prendendo la balena, tranquillo Ridicolo Ridicolo Ragazzi, io direi nei commenti Hashtag Tano Ridicolo Tano Ridicolo, assolutamente Mamma mia Ma di cosa stiamo parlando? Tano Doppio giochista Doppio giochista Fasullo Falso Abbiamo condiviso un letto a Romix assieme E non solo quello Non solo quello Anche i genitori Questa cosa non è molto carina da sentire Oh, mi è caduta la cuffia Ragazzi, c'è un pot dentro una casa Chi è? Eh? Qualcuno di voi è un pot? Io sono un pot sopra una casa Ah no, tu sei sopra Ok, io sono un pot dentro una casa Fianco un altro pot che si muove come un pirla Uh, toppe ragazzi Ora io metto in trappola tantissimo uno Perché gli faccio esplodere il ponte E lui nell'acqua non ci può andare Bravo Tano No, no, va bene Le tue mosse da infame Puoi farle benissimo Vediamo, dov'è? No No, ma a me mi si bacca tutto ragazzi No, no, no Mi sono fatto uccidere Ragazzi No, Marci No Eh, raga È un casino, raga Ma un casino Incredibile O sono bugato o c'è un cheater Perché a me mi... Avete presente quell'effetto strano Forse perché sono con la 1.9 È bugata per caso Eh, probabile No, la 1.9 li vedi invisibili Pirlone No, non è che li vedi invisibili Mi arrivano i colpi a caso Non so se capisci Eh, io non l'ho visto E pesa, me Ragazzi, sto correndo dietro un pirla Che non mi vede Io c'ho uno di quelli per la bussola Attaccato al culo Che mi sta cercando tantissimo No, no Eh, sì, sta cosa Ma come me la spieghi? Ma Ti ho trovato? No, raga Mi sa che c'è un hacker Ma come c'è un hacker? Cosa è successo? No, ma raga Ma non so Ma mi arrivano dei colpi Che non so Ma che Ah, l'Ultra X Anche a te Anche a me mi ha ucciso È l'Ultra X In pratica è una specie di Di ascia Che toglie un botto Cioè, da un botto di danno E ce l'ho anch'io l'Ultra X Che ti fa tipo Ce l'avevo anch'io L'effetto Tremolino Tipo scossa È È devastante Ma quella di diamante, no? Eh, sì Eh, ma anch'io ce l'avevo Non mi ricordo C'è questo effetto Bordelloso E invece È invece Oh Raga, io adesso non so dove devo andare Io non dico niente Ma c'è un signor 007 vicino a me Eh, Marco Tu mi... Mi invitassi dall'altra parte Sì sul tetto Tanno, io dico solo una cosa Pocherello Devo aspettare, raga Devo aspettare due secondi Mi sto cagando in mano C'è gente ovunque Attorno a me È una cosa bella Raga, però mi puzza sta cosa Quale cosa? Eh, mi puzza un botto Eh, la caga che ho fatto stamattina È un'altra parte Capita comunque, eh Devo dire che Sì, può capitare Non capisco Ah, forse ho capito Forse ho capito Eh, l'ho visto la freccia Bomber T'ho visto la freccia Bomberissimo Eh, t'ho visto la freccia Bomber T'ho visto la freccia No, ma Mi arriva l'effetto strano a me Mi ha levato Ragazzi, mi ha levato tutta la vita Ma cos'è? Ciao Tanno 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 Ma io penso di essere Baggatissimo con la 1.9 Tanno, tu sei buggato In qualunque istante Dalla tua vita No, veramente perché In tutti i monti Raga, io ve lo dico Stascia, qui non Io non mi ricordavo Facesse questo effetto Sinceramente Ve lo garantisco Non faceva questo effetto Vabbè, non lo so E poi Boh, ditemelo nei commenti Raga Però Guarda un Arci Mi puzzo Ma Spontiare è con me quindi Ah Ciao Marci Ciao Ma sei tu allora con l'ultrascia Che mi ammazzi No, è quelli XpK Ma vi giuro che Purtroppo Anche a me Anche a me l'ha fatto Infatti per quello l'ho detto prima Che boh Raga, io ve lo dico Ve lo dico Io non lo so Non so se è così che funziona Tu hai l'ultrascia Tierless? No Ho quella in legno ancora Ma guarda Ma guarda Anche lui l'ha scritto No, io ho quella in legno E vi sto guardando Infatti E' legend Le cose Le esplosioni Guarda Metano che cerca di salire Ma non è possibile Guarda Mi ha acceso nuovo lui Ma come? Ma Boh Ma non è fattibile Si va alla pugna 20 secondi 20 secondi raga 20 secondi Non ci troverete Non ci troverete Non ci troverete Ne tira 20.000 Non si può fare Tano Eh Ciao Ti vedo L'hai colpito tu Marco Si L'ho colpito L'ho colpito Ma non riesco a fargli niente Non riesco a fargli niente Ciao Tano E 5 secondi E' impossibile anche Si L'ho beccato una volta No non ce l'ho fatto E si va a vincere in questo modo L'ho chiamato Ma da marci Kill it Ah no Kill it by pica No regà Sono il maiale dietro di te No L'ho visto Ciao ragazzi Si Perché mi dice 6 minuti Ah ok finita Sono troppo forte Ragazzi Siamo in partita Stessa partita Di prima Mi sa Eh si Siamo in stessa partita Vabbè Aspetta Yes Ho sbagliato il posto Raga giochiamoci un pochino più Steved E E raga Bisogna stare attenti Io raga adesso attacco subito gli altri Mi stanno scrivendo su whatsapp signori Grandissimo Allora Raga Allora Raga Ragade Si Si Ho preso Ragade marci Ragade Ragade potete venire vicino al mio No marci sono allergico No marci no Anch'io Anch'io Raga al tetto davanti al coso degli altri Non me la sento No non me la sento Da me è anche pericoloso oltretutto Quindi vedete Sì ma infatti Ma perché Cioè non puoi Ma infatti Ma Tano Tano ha ragione Sì ciao Mi stai già killando Me ne vado Me ne vado Questo Top Grandissimo Vabbè Oh raga Me ne vado Se volete Se puoi Vattene Grazie Perché dopo questo No cioè Eh però vattene Se dice una cosa Falla Sto aspettando Che esci dalla testa Ciao Io mi sto cercando Di uccidere uno Ma non ci riesco Sono molto sad Dai potte di merda Levati dalle palle Ma cos'è contro i potte Anche sul potte Zitto Tano Stai schifo No Tearless Figlio di potana Attenzione La colpisce Sto facendo il cecchino Mi ha beccato Mi ha beccato Scappa Marci Scappa come se non ci fossero domani Marci Run Motherfucker Run Vedo gente che corre Incredibile Anche a poco L'uccidevo ragazzi Uno Grande Tano Grande Tano Magari io sono stato Un tetto E non mi ha visto Il tizio Io mi sento abbastanza Apoplectico Stamattina Stamattina Soprattutto stamattina Lo stamattina Mi ha steso Proprio Io ragazzi ho paura Sono su un tetto Tattico Però c'ho paura Su un tetto Quindi Un tetto Raga lo stavo prendendo Non riesco mai a prenderlo Di un millimetro No Sei morto un po' Mi dico Un pochettino Sto rinando Uccido il fratello di Tirless Ma non mi riesce Vuoi la mano Eh no Ci sto provando Ma lui Continua a salire Io lo butto di sotto Lui sale Raga Non è giornata per me Oggi fare l'idea Bella raga Giornati paga Raga Oggi sarà un episodio Hunters Perché io oggi Non sono me Questo maiale qua Non mi convince Raga mi dite L'ucciso Ragazzi l'ucciso Raga mi dite Grande Mi uccido Per favore Mi uccido il fratello Oh No no Marci Io sono su un tetto C'è un titolo Troppo vicino a me Sei su un tetto Eh posso ammazzarti Dimmi Cos'è me la faccio Un bel video Ti ammazzo E sciallo Sì sì certo Vieni per attendermi Devo starlo dietro Sì sì Salute Guardia Dovete salire in tre Per uccidermi Vi dico solo questo Sono già caduto Non so come Grande Marci Sei proprio un maiale Devo Sei una persona Molto molto apoplettica Raga ma basta Fare i mentecati Ma basta Ho capito Dov'è metano Dov'è metano? Dov'è metano è con te Eh? Siamo soltanto noi Eh ragazzi No 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 Il nuovo fratello Di Tirrest No è venuto Sei vindicato Ti ammazzato? Dai Marco siamo Io e te E lui Ho paura Raga però Fate una cosa Dite da un pochino Dove siete In questi due minuti Cos'almeno C'è il problema Trovarli Io sono All'interno Di una costruzione Eh vabbè C'è che detta così Ciao Ciao E da dove sono No Me l'ho scammato Me l'ho scammato Me l'ho scammato Me l'ho scammato No 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 Raga Infami Per me sono le lami Contro Luca Desa 17 Che mi ha ammazzato Prima E il bomber Tearless Dove sei? Tearless Cactor Tearless Dici dove sei? Dici almeno Che cosa sei Però seriamente No no Seriamente Sono una fornace Una fornace Potrei esserlo Raga devi solo dirci Potenzialmente dove sei In questi ultimi 49 secondi Sono dentro Un edificio Che sta sulla spiaggia E non è all'interno Ma ce l'ho adesso Raga non si può sgamare Raga è sgamabile 30 secondi Devi scappare Esatto Tear scappa Io lo faccio Inizia a correre Uomo Vado Ti vedo che sta sulla spiaggia Dove è? Raga dove è? Eccolo Eccolo l'ho visto Merda È lì è lì È lì Marcelli Dove è? Dove sono? È lì l'ho visto L'ho visto L'ho uccido? È lì ok E si che devi ucciderlo Bomber Va un po' di merda Vieni qua No no Me ne vado Ciao Marco Ma dov'è? Dove è? No No l'ho avvisciato Marco dov'è? L'ho visto L'ho visto E nove secondi Nove secondi No Larco bimbi Larco No raga Prendo danni in acqua Sì Sì L'ho avvato io Sì no no L'ha ammazzato L'ha ammazzato Marco No Wound the game E fa niente E quando finisce così Vuol dire che l'ha ammazzato Troppo forte Troppo forte Si demarca Quindi ragazzi Per questo Epi Zo Dio E' tutto Ci vediamo nel prossimo video Di Blockhound Magari facendo due volte Liders di fila Perché è veramente La prima volta che non riesco Ad essere veramente Bravo Non so Com'è che posso dire Un aggettivo adatto A poplet Efficiente Efficiente E raga Ci vediamo nel prossimo video Bella Saluto anche il buono Luca Desa Ciao Dei quali raga Ho balzato una partita Perché mi ha ucciso subito E Aga La banca La banca